come cazzo vuole, senza ingrassare le banche, senza mettere le carte di credito in banco anche nei bagni pubblici. Le banche hanno già amici molto forti, Matteo Renzi in primis che aiuta i grandi e noi stiamo con i piccoli, con i medi e abbiamo delle risposte governative. Quando andremo al governo ci metteremo ogni tanto la giacca e la cravatta, ma io non giudico una persona da come si veste, la giudico, da come pensa e da quello che fa. E là ci sono tanti profiti nel palazzo in giacca e cravatta che dovrebbero alzarsi alle 4 della mattina per andare a lavorare, magari in quei campi che stanno chiudendo con quell'Imu sui terreni agricoli che grida vendetta. Vergognatevi, pseudosinistri, a tassare gli agricoltori, gli lavoratori in maniera infame e indegna. E noi andiamo a prenderli mentre partono dalla Libia e non siamo ancora riusciti a riportare a casa due militari che da anni sono a spazio di un paese che intorno non è riuscito a fare un processo. Riportiamo a casa i Marò. Li mandiamo Renzi e Alfano e riportiamo a casa i Marò. Così l'India ci decora guerra. Adesso perdiamo altre mille voti moderati perché mi metto una felpa.